Ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, oggi per l'approfondimento in studio vi portiamo a Cantiano. Chi dice Cantiano dice turba del venerdì santo, panna di chiaserna, la famosa storica marena, ma appena la terra comincia a colorarsi, a profumare d'autunno, chi dice Cantiano dice cavallo. La grande festa del cavallo di ottobre in località chiaserna, le falde del Monte Catria e ne parliamo con il primo cittadino e diamo il benvenuto al sindaco di Cantiano Alessandro Piccini. Ben arrivato sindaco. Tra qualche settimana apriranno i battenti per l'edizione cavallo, la 44esima mostra a mercato del cavallo è la 37esima edizione del cavallo del Catria. Un'edizione, questo 2023, un'edizione di ripartenza, dopo tanti momenti di difficoltà, un popolo che si rialza con le proprie forze, con tanta tenacia e con tanta solidarietà. Esatto, ecco, un'edizione non scontata ma che a tutti i costi abbiamo voluto rimettere in campo. Per noi Cantiano Fiera Cavalli è ormai diventato un evento di rilancio, è l'evento del rilancio del Paese, lo è avvenuto con la prima edizione primaverile dopo il Covid e ci auguriamo che ridia la stessa fiducia e lo stesso effetto alla comunità cantianese dopo questo anno difficile che ci ha profondamente segnato dopo l'alluvione dello scorso settembre 2022. Quindi il cavallo, ecco, questa nostra unicità si sta ormai posizionando come una delle fiere di settore più importanti a livello nazionale, sfruttando una particolarità, quella di svolgersi in un contesto ambientale di alta qualità. Quindi non è la classica fiera dentro un padiglione fieristico, ma siamo alle pendici del Monte Catria, in un'area di più di un ettaro in superficie, ecco, all'esterno e quindi ecco, oltre il cavallo, in questo grande contenitore si promuoveranno tutte le eccellenze ambientali ma anche l'agroalimentare del territorio. Quindi ecco, un grande evento che creerà due momenti di intrattenimento per le famiglie nelle due domeniche dell'8 e del 15 settembre. Benissimo. Il focus della Kermess ovviamente è il cavallo del Catria, vogliamo entrare in merito a questa particolarità razza e come il consorzio che poi si è costituito tutela la razza e promuove la riproduzione e la miglioria proprio della razza stessa. Sì, esatto, ecco, il cavallo del Catria è una razza, è l'unica razza autoctona equide della regione Marche, ecco, prende il nome dall'omonimo massiccio, il massiccio del Monte Catria, su cui storicamente pratica l'antica usanza della monticazione, ovvero del pasculo in libertà durante quasi tutto il periodo dell'anno. Quindi non è una unicità nostra ma credo che sia un bene e un patrimonio di tutta la regione Marche. E attraverso questa razza che nel tempo ha cambiato sia di morfologia che di impiego, perché ricordiamo che il cavallo nasce come cavallo da lavoro, per il lavoro nei boschi, del legname, ed oggi invece ha subito un'evoluzione sia morfologica che di impiego che lo porta ormai ad essere un cavallo di livello di tante altre razze per il turismo equestre e per l'equitazione, perché tra l'altro ha una caratteristica, quella di essere un cavallo malleabile, molto docile, adatto soprattutto per i bambini, quindi come primo approccio con l'animale. Oggi la razza conta un qualcosa come circa 800 capi a livello nazionale e internazionale, perché abbiamo anche delle esportazioni ormai in Germania e in altri paesi dell'Europa e vede la tutela di questa razza per il tramite di un'associazione, associazione allevatori cavallo del Catra. Costituita nel 2020? Esatto, ricostituita, perché ecco c'è stato un percorso storico che l'ha vista, insomma, sospendere la propria attività per alcuni anni, oggi è tornata, è tornata in maniera energica, grazie anche al contributo del suo presidente Giuseppe Travagliati, ed oggi per il tramite dell'associazione si tutela questa razza e si continua a valorizzarlo, grazie anche al supporto della Regione Marche che tra l'altro è uscito con una legge proprio di valorizzazione di questo cavallo del Catria ed anche per la prima volta quest'anno con il contributo da parte del Ministero, l'ex Ministero dell'Agricoltura, oggi Masaf, che per la prima volta entrerà sia come sostegno e come patrocinio all'evento, ma anche con un programma di selezione della razza, con una propria valutazione morfologica e di andatura del cavallo. Quindi ecco, credo che sia un riconoscimento sia alla razza ma anche al valore del contenitore e della fiera che ci porta ormai su uno scenario nazionale. Una Kermes che attira da ogni parte d'Italia, anche all'estero, il cosiddetto turismo equestre. Cantiano diventa un set quasi cinematografico di una scena, di un film western, perché oltre al cavallo ci saranno spazi ludici di spettacoli. Ecco, entriamo in merito proprio alle giornate. La giornata dell'otto, su quale sarà focalizzata? Qual è la centratura della giornata domenica 8 ottobre? La prima domenica, che è quella tradizionale, sarà concentrata con un focus particolare appunto sulla razza, sul cavallo del Catria. Quindi avremo il cavallo in rassegna con la premiazione dei migliori capi, più una serie di intrattenimenti che chiaramente vedranno anche artisti di qualità in campo equestre esibirsi con spettacoli di alta caratura che provengono da Fiera Verona, da Roma Cavalli. Più un altro contenitore che riguarda altri tipi di intrattenimenti, musica country, intrattenimenti per i bambini, il battesimo della sella, quindi la possibilità che i bambini per la prima volta abbiano un approccio diretto col cavallo, con la possibilità di salirci. Quindi ecco un contenitore ampio in cui ci sarà una serie di eventi di qualità che riempiranno completamente la giornata, che io invito perché la definisco la giornata delle famiglie, perché poi ecco al di là degli addetti di settore, quindi degli esperti che attorno al cavallo esercitano il proprio lavoro, quindi la valutazione tecnica, morfologica e quant'altro, questo contenitore offre appunto la possibilità di godersi questo nobile animale in un contesto ambientale di alta qualità alle pendici del monte. Quindi semplicemente alzando lo sguardo si vede la cima del monte Catria, accompagnato da un paniere agroalimentare dei nostri prodotti tipici di qualità e dell'intero territorio, dal pane di chiaserna alla marene al cavallo del Catria. Per le gastronomiche del territorio sicuramente. Esatto, il tartufo, la birra, quindi insomma un paniere che delizierà anche il palato e non solo la vista di chi verrà. Ricordiamo che la Kermesse, il festival, è frutto di un lavoro sinergico tra Associazione Allevatori del Cavallo del Catria, il Centro Ippico Labbadia, Associazione La Selva e ovviamente tutto l'intero apparato commerciale e ovviamente l'amministrazione. Esatto, ecco c'è una compagine di attori che a vario titolo contribuiscono alla realizzazione di questo evento, che ripeto è essere un evento proprio della nostra tradizione, ma che negli ultimi anni ha raggiunto dimensioni che ecco ci auspicavamo, ma che mai pensavamo fossero così rapide e che si allargassero a un pubblico ormai di migliaia di presenze. Ricordo che in questo esperimento della riproposizione della fiera a maggio del 2022, in poco più di mezza giornata arrivarono 10.000 presenze su Cantiano. Ricordiamo che l'edizione questa è autunnale, ma siete partiti anche con una novità dell'edizione primaverile. Esatto, è stata una sfida, una sfida che tra l'altro ha avuto anche un non semplice percorso, perché chiaramente usciamo da una caratterizzazione, da un'idea storica che chiaramente il cavallo lo portava a ottobre perché c'erano dei motivi oggettivi, cioè il cavallo in quella stagione storicamente scendeva dai pascoli del monte e quindi andava in fiera per la commercializzazione prima di rientrare in stalla. Però abbiamo capito che forse caratterizzare la promozione della nostra amministrazione, del nostro comune, puntando sui nostri elementi di forza, che se da una parte sono quelli identitari culturali con la turba che citava poc'anzi, dall'altra parte vedono nel cavallo il fattore attrattivo principale e quindi abbiamo anche ritenuto, avendo anche un'altra manifestazione che si svolgeva nello stesso periodo, che era la Piazza del Gusto nel periodo primaverile, abbiamo ritenuto opportuno farla confluire dentro questo contenitore che è Fiera Cavalli e lanciare un'edizione primaverile che ha sempre il cavallo come centro, come focus, ma propone invece un'idea di turismo sostenibile che si porta dietro le attività all'area aperta, quindi una fruibilità del monte e dell'ambiente rispettosa appunto dell'ambiente stesso, della sostenibilità, quindi il trekking, il bike, il cavallo, il turismo equestre, e quindi abbiamo voluto caratterizzarci per questo, quindi credo che in futuro Cantiano sempre di più debba essere identificato tra la turba e il cavallo. Benissimo, e ripercorrendo proprio la storia del festival della Kermes, com'è cambiata la manifestazione negli anni? Come nasce l'esigenza? Chi ha spinto insomma a creare una festa, diciamo che poi una festa, una manifestazione diventa una festa, il cavallo? Ecco, andiamo un po' di origini. Sì, ecco, io credo che questa fu un'intuizione lungimirante dei nostri allevatori, di chi all'epoca gestiva le università agrarie, l'azienda del Catria, questi contenitori che gestivano queste proprietà collettive che facevano capo al comprensorio del Catria, perché ci fu un censimento, ci fu un censimento alla fine degli anni 70 in cui per la prima volta il numero dei cavalli superò quelli dei bovini e quindi l'intuizione fu proprio di caratterizzare il territorio con un focus dedicato a questo animale, il cavallo. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere un centro ippico di proprietà comunale che appunto fu realizzato proprio tenendo conto di questa particolarità e lì si iniziò con lo spirito della commercializzazione questa fiera che oggi invece ha assunto dei livelli tutta, cioè insomma sono usciti da quella logica nostra e invece si sono allargati a un mercato ormai direi nazionale e oltre in cui il cavallo è parte integrante di una manifestazione che però promuove e tiene dentro tanti altri aspetti, di cui chiaramente il cavallo è il fattore trainante. Quindi oggi il cavallo si posiziona, come dicevo prima, come un elemento rispetto al quale si possono sviluppare più strategie promozionali e di lavoro, appunto quelle legate proprie alle attività equestre, quindi al nostro centro ippico che è gestito appunto da un'associazione sportiva che è il centro ippico la Badia, il mondo allevatoriale perché l'obiettivo è di riportare i giovani all'allevamento che mentre prima era un costo ora sta diventando anche grazie al supporto degli aiuti pubblici ma anche alla promozione del cavallo che lo porta ormai su standard commerciali molto più alti rispetto a prima, quindi l'obiettivo è di riportare anche economia reale sul paese, attraverso i lavori che possono essere fatti attorno al cavallo ma anche rispetto alle ricadute economiche importanti che eventi come questo creano sull'indotto economico del paese, tra l'altro in un momento in cui il paese ha grande necessità, quindi dopo l'alluvione crediamo che questo evento sia un'iniezione di fiducia sia in termini di promozione del territorio ma anche di ricadute economiche reali rispetto a quelle attività che sono state danneggiate, che ci hanno messo del loro per ripartire e che credo possano sfruttare positivamente questi momenti commerciali. Giustamente l'edizione lavora in un contesto ancora di necessità perché è passato un anno ma ancora siete in emergenza, quindi sinceramente è un momento di grande coraggio e di grande ripartenza, un momento che ancora... Esatto, esatto, ecco, credo che lo dobbiamo anche come riconoscenza rispetto alla tenacia dei cittadini kantianesi. Oggi Kantiano non è più quel Kantiano che ricordiamo un anno fa, oggi io lo definirei un paese ex alluvionato, nel senso in cui abbiamo avuto la fortuna, ma più che fortuna abbiamo avuto tanta tenacia nei cittadini e nelle attività che ci hanno riconsegnato un paese funzionale al 100%, noi avevamo 60 attività di impresa compromesse, il 70% dell'indotto del tessuto socio-economico del paese compromesso dopo l'alluvione e ad oggi quasi tutte le attività, le ultime apriranno questi giorni, il 100% delle attività sono riaperte, ma sono riaperte grazie alla loro tenacia e alle proprie forze, con l'accesso al credito, con la messa a mano al portafogli, quindi sono partiti prima e meglio delle forme di sostegno istituzionali, quindi rispetto a questa tenacia io credo che sia nostro compito anche infondere fiducia, oggi Cantiano ha con certezza di fronte un futuro che poteva anche non avere, stante la gravità del fenomeno che c'era accaduto, quindi ecco noi abbiamo ancora tanti problemi da risolvere, quindi è inutile negarlo, abbiamo oltre 50 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico, però la forza di ripartire è stata maggiore. Esatto, e siamo convinti ormai di farcela e quindi nel momento in cui usciremo e risistemeremo il paese dovremmo avere pronti questi momenti di promozione, anche per sfruttare questa onda mediatica e questa vicinanza e solidarietà che si è dimostrata nei momenti difficili e che possa magari continuare ad esserci, però supportando la ripartenza con eventi stavolta meno brutti e invece più positivi che guardano con fiducia al futuro. Abbiamo detto la domenica dell'8, giornata centrata sulle famiglie, su dei percorsi anche educativi, la domenica del 15 la particolarità? Ecco questa domenica del 15 tra l'altro è una nostra idea anche questa, perché storicamente tutto si concentrava in un'unica domenica, che era la seconda domenica d'ottobre, però abbiamo visto che spesso l'enorme sforzo organizzativo veniva venificato dalle condizioni meteo e quindi ci siamo detti che sarebbe stato opportuno darci una seconda possibilità, quindi la seconda domenica nasce per questo. E per non riproporrere, anche per uscire dalla logica tradizionale di valorizzazione del cavallo che deve avvenire la seconda domenica d'ottobre, vogliamo posizionarci su un'idea di promozione del turismo sostenibile. Cantiano è anni che lavora su questo, noi crediamo che l'economia del paese si regga su un'idea di valorizzazione ambientale che sia rispettosa del territorio, delle abitudini, delle usanze, non invasiva in maniera di investimenti umani e quindi questo sarà l'occasione anche per una riflessione sul futuro della gestione delle montagne, sul turismo sostenibile e su tutte quelle serie di attività che a costo zero possano inserirsi in questi contesti di alta qualità ambientale, quindi il bike, il trekking, il turismo equestre, quindi attività non invasive che creano però economia reale sui territori. Abbiamo citato prima il centro ipico Labbadia e focus principale per il mountain trail, vogliamo raccontare a chi ci ascolta che cosa consiste? Sì, abbiamo un'eccellenza territoriale ormai riconosciuta a livello nazionale, un centro ipico di qualità con degli istruttori di livelli a partire dal presidente Paolo Vitali che tra l'altro è uno degli ideatori, degli importatori dall'America di questa disciplina che è il che è una disciplina che prevede un rapporto particolare tra addestratore e cavallo, una simbiosi in cui non c'è un comandante e un esecutore ma c'è una simbiosi nei movimenti, nelle indicazioni, nelle attività che il cavallo fa in maniera naturale, proprio in un linguaggio del corpo tra addestratore e cavallo senza l'utilizzo di elementi coercitivi nell'attività di addestramento. Quindi credo ci saranno delle simulazioni di questa disciplina durante tutto l'arco della giornata e questo sia l'8 che il 15. Per accedere a queste kermesse, queste manifestazioni bisogna prenotarsi, vogliamo spiegare magari a chi ci ascolta, per accedere insomma alla possibilità di utilizzare anche queste occasioni per avere più contatto, anche scoprire discipline nuove come il mountain trail. Sì, allora l'accesso è simbolico nel senso che per accedere alla manifestazione c'è un piccolo biglietto di ingresso di 3 euro, quindi veramente simbolico ma solo a sostegno dei corsi organizzativi dell'evento con i bambini chiaramente che entrano gratuitamente, parcheggi liberi quindi non a pagamento e poi dentro è chiaramente tutto gratuito, quindi l'accessibilità sia agli spettacoli equestri, sia alle dimostrazioni, sia agli intrattenimenti per bambini sia equestri che ludici sono completamente gratuiti. Quindi credo che con pochissimo sforzo economico si possa godere di un'intera giornata, di una ricca giornata in cui magari anche vedere cose che quotidianamente non si vedono, perché ecco il rapporto con un animale così nobile come il cavallo, questa anche morfologia e presenza fisica d'impatto, perché ecco non è un animale domestico ma è un animale che... Basta ricordare gli effetti benefici della ipoterapia. Esatto, una filiera su cui ci stiamo anche questo proiettando forti del carattere docile di questo animale. Quindi io invito proprio i bambini, i ragazzi a questo primo approccio perché è un approccio che lascia anche qualcosa umanamente, lo dico anche da ex cavaliere nel senso che anche io ho avuto un cavallo nella mia vita, probabilmente potrei anche riaverlo magari un cavallo del catere questa volta, cioè tra cavallo e cavaliere si crea quella simbiosi che insomma è difficile anche spiegare. Per chi non l'ha provato forse sì. Invito anche a viverla e soprattutto ai ragazzi di entrare in questo rapporto particolare usufruendo di queste possibilità dell'approccio fisico ma anche della salita in sella tramite il battesimo della sella che sarà disponibile entrambe le domeniche. Tornando ai Cavalieri c'è una famosa sfilata di Cavalieri Storici, giornata del domenica 8-15. La stiamo ancora valutando nei dettagli, però cerchiamo di comporre un quadro di qualità in termini di spettacoli equestri e anche efficaci dal punto di vista visivo. Posso dire già quelle che sono le certezze dell'evento riguardo anche all'esibizione dei butteri, questa disciplina maremmana qui vicino a noi che caratterizza la razza che sarà in esposizione e in dimostrazione rispetto all'attività che faranno. Abbiamo dei Guinness World Record, cioè degli artisti di fama internazionale che esibiranno le proprie eccellenze legate ai Cavalli. Abbiamo delle evoluzioni sia in libertà che con acrobazie legate all'utilizzo del cavallo, dome spagnole, giochi con il fuoco, insomma eventi veramente di alta qualità che vengono appunto da circuiti internazionali e che riconoscono Cantiano Fiera Cavallo ormai come un palcoscenico nazionale su cui esibirsi e quindi su cui portare anche la qualità di eventi come questo. Quindi direi che dobbiamo praticamente partecipare a queste giornate immersi nella natura, nella storia, nella cultura, nel territorio, nel buon cibo perché abbiamo detto che non mancheranno degli stand gastronomici di perle gastronomiche del territorio e tanto benessere. Esatto, credo che sia un cocktail a cui non si può mancare, rifiutare, quindi due domeniche di facile accessibilità in cui veramente dalla mattina alla sera si può godere di una giornata in relax godendosi tutte le eccellenze di un territorio unite in un unico contenitore. quindi l'agroalimentare, le bellezze ambientali, i nostri cavalli e quindi insomma un momento che possa restituire quelle emozioni che solo in questo luogo è unico a livello ormai nazionale come location su cui si svolge una fiera di settore può restituire a chi parteciperà. Ringrazio Sindaco, buon lavoro, ringrazio per la regia Roberto Magrelli e buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Grazie a tutti! Grazie a tutti